Macabro ritrovamento alle porte di Belluno. Nella frazione di Levego la morte è solitaria di un uomo, spirato nella sua roulotte. Si tratta di una persona che viveva una situazione di disagio e frequentava la mensa della Caritas. Proprio il sacerdote, che si occupa del punto di assistenza ai bisognosi, è stato l'unico ad andare a cercare quel sessantenne che si rivolgeva spesso alla struttura. Da tempo non si vedeva, il religioso sapeva dove cercarlo. Ha trovato la roulotte parcheggiata tra gli alberi e circondata di rifiuti. Nessuno rispondeva. C'era solo un corpo senza vita, sul posto i carabinieri che hanno registrato il tragico epilogo. Il corpo dell'uomo era in pessime condizioni, ridotto in parte a uno scheletro, forse preda della fame di alcuni animali. Non ci sarebbero responsabilità di terze persone. Solo una morte solitaria, in una situazione di degrado, al freddo, senza nessuno che venisse a bussare alla porta di quella roulotte parcheggiata in periferia, fino all'arrivo del religioso che ha rotto un silenzio durato verosimilmente giorni.